Sono quattro anni che lavoro con Zeno D'Agostino e oggi la sentenza che annula la presa di posizione dell'ANAC mi rende molto felice. Perché? In questo momento la città sta correndo. La zona franca, la chiusura della feriera, l'area Sistoc, l'area Teseco con gli ungheresi. Grandi momenti per la città. La collaborazione con il Porto Vecchio, che è indispensabile per l'autorità portuale. Per cui, ripeto, grande soddisfazione per Zeno D'Agostino all'uomo, grande soddisfazione al Presidente e grande soddisfazione per la mia città che può continuare a correre.